Le scuole di Modica sono già al lavoro per abbellire le città in occasione del Natale. Protagonisti quest'anno saranno i disegni realizzati dai bambini per la creazione delle luminarie artistiche. L'iniziativa dal titolo Un Canto di Luce, che rientra nel più ampio progetto Un Solco della Tradizione, coordinato dal Circolo Didattico Raffaele Poidomani, ha visto oggi pomeriggio nei locali di Palazzo della Cultura l'inizio dei laboratori per la produzione delle luminarie. Sono stati scelti 200 disegni su 1930 pervenuti dagli alunni di tutte le scuole dell'infanzia e medie della città. Le luminarie verranno installate nel centro storico, nel tratto compreso tra la Chiesa di San Pietro e Piazza Monumento, e poi in alcuni vicoli che conducono sino alla Chiesa di San Giorgio. La cerimonia di inaugurazione avverrà il 10 dicembre, giorno in cui un coro di mille bambini nella Chiesa di San Pietro aprirà le celebrazioni in vista del Natale. L'iniziativa prevede anche l'allestimento di una mostra e la proiezione in alcuni edifici della città degli oltre mille disegni realizzati dai bambini. Il progetto ha visto anche la partecipazione dei commercianti e della Chiesa in vista di un'azione sinergica tra le varie realtà locali.